amiche della fioraia buongiorno oggi sono qui con una proposta veloce veloce per le vostre le vostre decorazioni natalizie possono essere le decorazioni dell'albero possono essere dei semplicemente dei chiudi pacco possono essere le decorazioni dei segnaposto per i vostri ospiti a natale insomma le interpretazioni poi sono libere e le lascio a voi io vado a spiegarvi intanto di che cosa si tratta allora io ho preparato delle delle sagomine rivestite e con dei fiorellini delle roselline dei boccioli così che poi andrò a spiegarvi naturalmente c'è assieme a questa a questa cioè come sostegno diciamo per questa lavorazione c'è un kit che comprende appunto il materiale per tutte e quattro le formine ciò significa che quando voi ricevete il vostro kit avete più di 40 sagomine già tagliate quindi non una cosa da poco palline perline tutto quello che vi serve per comporre quattro quattro sagome esattamente come le mie il tutto è accompagnato dalle dai quattro disegni che vi saranno utili appunto per seguire poi con il filo di alluminio e poi il le spiegazioni dei tagli e i disegni delle sagome che dobbiamo andare a lavorare per fare i fiori allora e oggi io andrò a lavorare ad arricchire diciamo e a preparare i fiori per il cuoricino che già comunque vedete ho preparato e quindi qui impareremo a fare i fiori e poi invece andiamo a fare come sagomina proprio da costruire faremo l'albero di natale che diciamo tra tutte è quella un po più magari complessa come formina quindi l'andiamo a fare insieme le altre sono molto semplici diciamo e imparando la tecnica andrete sicuramente a farle in pochi minuti allora io ho già preparato il filo di alluminio eccolo qua il filo di alluminio rivestito l'ho già passato dentro a questo a questo tubolare quindi eccolo qua questo è già pronto della misura che viene richiesta per l'alberello di natale allora adesso spostiamo un attimo il nostro ecco e ci mettiamo la sagoma da lavorare davanti allora io partirò circa dalla metà allora vedete dove arriva il ferro ecco qua io parto circa dalla metà e con le mani con le mani modello il ferro sul disegno poi mi posso anche aiutare con delle pinze vedete lo piego sul disegno qui magari vado meglio con le mani prepara a fare appunto l'archetto così qui riprendo di nuovo la mia pinzetta e giro nuovamente il filo di ferro così e lo porto qui qui prendo nuovamente il ripiego con le mani ecco 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 adesso come ovviamente il disegno ci aiuta ma non deve essere diciamo così una rotaia dalla quale non ci si può scostare insomma perché assolutamente altrimenti diventa diventa abbastanza complicato far qualsiasi tipo di di lavorazione comunque è una cosa artigianale ecco vi ripeto l'albero di natale di tutte le sagome è quella un pochino più diciamo così laboriosa ecco direi la parola giusta è laboriosa adesso quando siete alle prime armi magari vi servirà vi servirà il disegno poi vedrete che insomma vi muoverete molto tranquillamente anche senza l'aiuto del del disegno ecco qua ecco 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 qua stiamo per arrivare al capolinea ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua la nostra sagomina l'abbiamo praticamente conclusa io lascio sempre abbastanza materiale alla fine perché così questo mi permette mi consente diciamo di fare un lavoro più sicuro ecco di non di non finire magari senza il arrivare senza ecco senza il tubolare ecco voi vedete io ho intanto eliminato ho eliminato l'esubero di di filo di alluminio diciamo così adesso adesso farò in modo da di ecco portare ecco sono arrivata al livello qui e adesso io praticamente devo togliere quello che è l'esubero di di tubolare adesso quando voi vedrete il passaggio capirete appunto le le motivazioni ecco qua allora adesso manderò il come fosse un contrarie praticamente metto dentro il filo di ferro dentro il filo di alluminio dentro sia da una parte che dall'altra ho mandato dentro i pezzettini di ferro adesso taglio quello che è ancora l'esubero a questo punto andate piano con i tagli adesso adesso metto un po' di colla che mi blocchi i due i due le due parti diciamo dell'alluminio e poi un po' di colla che mi fermi diciamo quello che è il l'incrocio l'incrocio dei tubolari ecco poi io sopra a questi punti andrò a mettere dei fiorellini quindi mi preoccupo relativamente diciamo del che il lavoro sia perfettissimo ecco qua eccoci qua ed ecco il nostro alberello quello che posso fare ora è mettere il nastrino che comunque il quale naturalmente do un lo fermo e poi faccio un nodino ecco qua adesso lo vado a decorare con il filo in questo cordoncino dorato e naturalmente faccio partire lo fermo con un pochino di colla sul retro e parto in maniera così del tutto fantasiosa con il filo dorato ecco direi che così mi può piacere lo tengo fermo lo giro taglio e fermo sempre con il con un punto di colla e quindi ecco qua ecco qua ora direi che il primo fiorellino lo andiamo ad applicare proprio nel punto che ci è riuscito peggio diciamo così nel punto di congiunzione che è sempre insomma un po' per realizzare questi fiorellini in pratica ho attaccato due come vedete ecco due sagomine perfettamente che combacino perfettamente e questo lavoro lo andiamo a fare ve lo faccio dopo ve lo faccio vedere sulle sagome più grandi adesso passiamo ad incollare le sagome che naturalmente metteremo giù in maniera così proprio dd una va sicuramente qui in alto no non bene ok 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 al centro ci metterei una perlina ed ecco terminato il nostro alberello super veloce adesso ho preparato il il cuore il cuore è già pronto perché qui quello che a noi serve è andare a imparare a fare il bocciolo e la rosellina allora iniziamo dal bocciolo lavoreremo con due sagome e con una pallina da un centimetro e mezzo un po di colla sui petali alziamo questo petalo e lo chiudiamo lo stesso facciamo col secondo petalo che andrà ad abbracciare il primo mi raccomando portate i petali tutti alla stessa altezza se sarà necessario tirare un po tirate senza problemi il tessuto elastico e vi verrà dietro sicuramente ecco questo è il primo passaggio con la prima sagoma adesso passiamo alla seconda se ci riuscite fate in modo di ecco qua in modo da rendere i petali sfalsati non mettete colla sulla punta del petalo altrimenti quando voi andate ad incollarlo la colla molto facilmente vi uscirà e se il bocciolo ha la colla che si vede sulla parte superiore insomma non è proprio riuscito perfettamente adesso facciamo mettiamo il sepalo che diciamo così la fogliolina del bocciolo ecco qua è pronto il bocciolino ora andiamo a fare invece la rosellina proprio vera e propria allora la rosellina vera e propria ha già due petali due sagome due coppie di sagome già incollate e andiamo incollare adesso le altre le altre due questo lo faccio davanti a voi perché così possiate vedere come fare allora allora io consiglio due strade una è questa cioè i due petali uno sopra l'altro e questo lavoro qui così petalo per petalo la seconda strada è quella di lavorare però questo lo vedo già per una fase un po' più diciamo così esperta lavorare con il petale in mano cioè le sagome in mano cioè quindi lo tenete ecco allora io utilizzerò la pallina più piccola rispetto a quella di prima e la punto al centro dopo metto un po' un po' la stessa cosa che ho fatto prima e faccio in modo di abbracciare la pallina e chiudere in questo modo ok secondo petalo terzo petalo voi vedete che tutti i petali che tiriamo su vanno tutti ad abbracciare il il i petali precedenti ecco se vedo poi a lavoro ultimato che si ci sono delle parti che si aprono oppure dei petali che non hanno aderito bene faccio diciamo così un ripassino e sistemo tutto ecco qua prendo il secondo la seconda corolla che ho preparato sempre appunto doppiata mi metto al centro un punto di colla e cerco come dicevo prima di fare in modo di sfalsare i petali ecco un po' di colla alla base e tiro un po' il petalo in modo che non resti corto diciamo sotto al bocciolo lo tiro un po' e poi resto con il tenendolo a tenerlo tenerlo fermo perché altrimenti il petalo tende a ritirarsi e lascia fuori la colla quindi lo tengo finché sono sicura di aver fatto un lavoro che non mi lascia sorprese ecco abbiamo attaccato il secondo giro adesso partiamo con l'ultimo giro sempre sfalsando le corolle ecco e sempre andando a mettere un puntino di colla all'inizio tirare un pochettino perché altrimenti vedete fondamentalmente tende a rimanere la foglia un po' troppo sotto rispetto quindi una tiratina non si nega nessuno uno e due una volta addirittura azzardiamo con due un pochettino di fili ecco qua ecco qui il bocciolino il scusate la rosellina è pronta è pronta anche la decorazione già doppiata adesso non ci resta che terminare il nostro il nostro cuoricino allora metterei per prima cosa la rosellina ecco qua dopodiché mi preparo per attaccare il bocciolino e questo è semplicemente una decorazione perché vedete a questo punto per non mettere un altro bocciolo mettiamo semplicemente una sagomina doppiata in questa posizione in modo che appunto riempia ma senza diciamo così troppo lavoro ecco qua poi se avete voglia potete mettere altri boccioli potete mettere delle foglioline potete mettere appunto di fantasia vostra qualsiasi tipologia appunto di di fiore e così abbiamo terminato anche il cuoricino allora queste sono le altre due le altre due formine che sono comprese nel 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 kit il kit come vi ripeto è pronto con tutte le sagomine pronte con tutto il materiale che vi può servire per realizzare appunto il vostro il vostro lavoro per quattro di queste sagome miste diciamo e poi avrete appunto con il kit i disegni delle sagome da seguire con il fil di ferro come vi ho mostrato e tutte quante le tutte le sagome anche quelle dei fiori ovviamente e poi naturalmente tutte le indicazioni sui tagli dei tessuti eccetera eccetera voi portate a casa tutto il materiale comprese le formine pretagliate quindi potete sbizzarrirvi davvero per far appunto per far parecchio lavoro io qui ho concluso intanto vi saluto e vi auguro buon lavoro ci vediamo la prossima volta